Al centro del mio programma amministrativo l'attenzione verso le periferie. Per me non è una novità perché in 21 anni di attività giornalistica conosco la città, in particolar modo le periferie meglio delle mie tasche. Ritorno qui a Talsano e vedo che la situazione non è rimasta la stessa, è peggiorata ed è peggiorata sensibilmente. Mi trovo in via Cellini e guardate qui sono stati fatti i lavori per la Fogna ma la ditta che ha realizzato questi lavori ha pensato di lasciare tutto così rotto. Sono stati fatti i lavori e vedete il manto stradale è completamente abbandonato, dissestato, per nulla asfaltato. Non ci si è degnati neanche di mettere una pezza di catrame seppur provvisoria. Nulla di tutto questo da messi. E questo fa capire come la macchina amministrativa del comune di Taranto non funziona. Non funziona perché quando vengono realizzati dei lavori, dal momento che stiamo parlando di aree, di strade che fanno parte del patrimonio del comune di Taranto, gli uffici tecnici del patrimonio, dei lavori pubblici devono andare sul posto, verificare quello che è stato combinato dalle ditte, segnalare e prendere provvedimenti. L'amministrazione deve prendere provvedimenti, invece nulla. Le ditte giustamente fanno i comodacci loro perché nessuno li controlla, perché c'è uno stato di anarchia. Eppure qui il cittadino paga le tasse. Il cittadino paga le tasse per ricevere dei servizi. E cosa riceve in cambio il cittadino? Riceve in cambio assoluto degrado, abbandono. Non credo che in una città normale si possano fare dei lavori di fogna e poi si lascia tutto così. Pensate ai rischi che ci sono per i pedoni, per la gente anziana che cammina e attraversa la strada, per gli automobilisti che riportano danni continui e consistenti a livello meccanico di carrozzeria alle proprie auto. Ma è possibile? Sembra di essere in una zona, non so, in qualche paese del terzo mondo, in quelle zone in cui davvero il tempo sembra essersi fermato. Ecco la rivoluzione negli uffici tecnici che voglio fare. Ci sarà una rivoluzione completa, completa. Funzionari, dirigenti devono muoversi, devono girare, devono sollevare il culetto, scusatemi l'espressione dalla sedia, per verificare come vengono fatti i lavori. In questo caso parliamo di lavori fatti appunto da una ditta per conto dell'acquedotto, ma ci sono delle situazioni ancora più gravi di lavori fatti direttamente per conto dell'amministrazione comunale che non ricevono nessun tipo di controllo, di nessun tipo. A Taranto vige l'anarchia anche perché abbiamo avuto un sindaco, Melucci, rinchiuso a Palazzo di Città, non girava la città e non sapeva nulla e non sa nulla di quello che accade. Se parlate di Talsano e di Via Cellini, per Melucci è come parlare del pianeta Marte, non sa come la superficie sul pianeta Marte, non sa come la superficie, così, il manto stradale di Via Cellini. Dobbiamo cambiarla questa Taranto e dobbiamo anche tirare le orecchie, ma fortemente agli uffici tecnici. Sarò un sindaco scomodo rispetto agli uffici tecnici? Quasi sicuramente sì, sicuramente sì, poco mi importa, io devo dare risposte ai cittadini.